Tiene banco nelle ultime ore la strana notizia apparsa sui maggiori network italiani riguardanti il Real Agraversa, squadra di proprietà del principe di casa Savoia Emanuele Filiberto. Il numero uno del club campano, mediante una nota stampa, nella giornata di ieri ha denunciato pubblicamente il presunto avvelenamento della sua squadra in occasione della gara persa contro Ragusa per 6-0, valida per i play-out di Serie D Gironei. Una sconfitta pesante che costa le retrocessioni del club in eccellenza. Il principe non ha gradito né la sconfitta né le modalità con le quali è avvenuta. Quella che è successa ieri è qualcosa di inaudito e dal mio punto di vista è un attacco anche alla mia persona oltre che la città di Aversa. Han avvelenato la mia squadra. Parole pesanti che hanno fatto rimbalzare la notizia in tutta Italia. Fatto sta che la squadra del Real Agraversa risulta ricoverata presso l'ospedale di Salerno. Abbiamo deciso di mandare il ritiro la squadra direttamente nella città di Ragusa, in un noto albergo cittadino, rileva il principe, proprio per farli ambientare. Essendo una città a 600 metri dal livello del mare, ma mai potevamo immaginare che nel 2023 potessero accadere cose simili. Non voglio fare nessuna igliazione, ma l'unica cosa certa è che tutti i nostri calciatori sono tutti in ospedale. Durante il viaggio di ritorno, dopo le molte fermate per vomitare, è stato necessario portare l'ospedale di Salerno e purtroppo sono stati tutti ricoverati. Una vicenda molto strana con il club campano che aveva richiesto il rinvio della partita per recuperare più calciatori possibili. Una situazione paradossale con il Real Agraversa costretta addirittura a schierare un calciatore di movimento tra i pali. Pronta la risposta del Ragusa, che non ha gradito i toni, e le accuse del principe di Savoia, considerandole deliranti. La dirigenza dell'SD Ragusa Calcio ritiene inaccettabili e deliranti le parole del dottore Emanuele Filiberto di Savoia, che lascia intendere che vi sia stata addirittura una sorta di complotto ordito dall'SD Ragusa Calcio, complotto che avrebbe portato all'avvelenamento dei calciatori del Real Agraversa e che per questa ragione avrebbero perso il match in questione. Le parole scritte dal proprietario del Real Agraversa non sono infamanti, ma offendono profondamente la squadra e tutta la comunità ragusana.